Cari sommesi, cari sommesi buongiorno, vi parlo dalla cameretta di Chiara perché sono in isolamento domestico, lo sarò ancora per qualche giorno, ho già effettuato il tampone, attendo l'esito comunque sto bene. Volevo fare insieme a voi il punto rispetto alla situazione coronavirus a Somma Lombardo, ad oggi risultano 133 persone positive e 173 in isolamento, si tratta per o più di nuclei familiari, non ci sono focolai precisi, puntuali. Diciamo che la maggior parte delle persone di questo sono contento, ad oggi sono sintomatici o hanno lievi sintomi, sono solo tra i nostri concittadini ricoverati in ospedale, loro facciamo i nostri migliori auguri. La notizia positiva è che ad oggi non risultano contagi all'interno delle due RSA di Somma Lombardo e questo è importante perché sapete che le persone più fragili sono proprio i nostri anziani. Ad oggi risultano otto classi delle nostre scuole in isolamento domestico, tre alle scuole Emilitegnoto, due alle scuole Macchi, due alle Rodari e una alle Da Vinci. Ci sono anche due piccoli gruppi da cinque bimbi ciascuno in isolamento domestico dall'asilo nido, questo perché all'asilo i gruppi sono appunto di cinque bambini alla volta, sono piccoli gruppi proprio per garantire la massima sicurezza possibile. Lo stesso dicasi per il doposcuola, ci sono due micro gruppi da otto bimbi collocati in isolamento domestico. Continueremo a rogare il servizio per garantire alle nostre famiglie un sostegno importante in questo momento. La situazione è difficile soprattutto per i nostri esercenti e per tutti quei lavoratori che sono in cassa integrazione o per coloro i quali non hanno neppure un reddito a disposizione. Ecco, continueremo per quello che è di nostra competenza a sollecitare gli interventi di Regione e del Governo per dare un supporto a questi nostri cittadini in difficoltà. nessuno va lasciato solo in questo momento particolare. È una situazione difficile. Chi deve prendere scelte non lo fa a cuor leggero e non lo invidio perché bisogna riuscire a coniugare tutela della salute con tutela delle condizioni economiche e sociali dei nostri concittadini. Questo è il momento dell'unità. Ci sarà tempo per criticare, ci sarà tempo per avanzare proposte di riforme, oggi bisogna cercare di marciare tutti nella stessa direzione e di fare ciascuno la propria parte. Quindi manteniamo le distanze. Quando entriamo nell'esercizio commerciale guardiamo di rispettare il numero massimo di persone che vi possono accedere così faremo in modo che gli esercenti possono continuare ad esercitare la loro professione importante a servizio della comunità. Manteniamo le distanze, indossiamo la mascherina, sanifichiamoci le mani. Ecco, la situazione è complicata, dobbiamo fare la nostra parte, teniamo duro e insieme ce la faremo.